Mantenere viva l'attenzione su situazioni di questo genere è cruciale attraverso gli appelli dei familiari, degli amici e dei conoscenti della persona scomparsa. Solo grazie a una stretta collaborazione tra la produzione, le forze dell'ordine e il pubblico affezionato al programma è possibile risolvere il caso. In molti casi, come quello che ci accingiamo a raccontarvi, la vicenda ha emozionato i telespettatori, i cui volti sono stati segnati dalle lacrime di gioia. Benvenuto su Febbre da Gossip. Prima di scoprire chi è stato ritrovato vivo, vogliamo ricordarti di premere il pulsante iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Finalmente, dopo una lunga attesa, è giunta la notizia del ritrovamento che ha tenuto col fiato sospeso la scomparsa del 17enne Daniele De Rosa di San Giorgio a Cremano. Sparito da Napoli il 13 novembre. Fino a quel momento, la notizia del suo coinvolgimento in una sfilata era l'ultima informazione disponibile. Per cercare di trovare Daniele, sono stati lanciati appelli sui social media, chiedendo a chiunque avesse informazioni utili di mettersi in contatto con le autorità o con la produzione. Fortunatamente, la scomparsa del giovane si è risolta positivamente grazie all'impegno congiunto della produzione, delle forze dell'ordine e dell'aiuto prezioso del parroco di Montesanto, Don Michele Madonna, che è entrato in contatto con le autorità di pubblica sicurezza e con la famiglia del ragazzo. Sei contento di questo ritrovamento? Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando la campanellina per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto.